Resterà in carcere il 35enne ganese che ha aggredito al prato ad Arezzo una coppia di ragazzi tentando di violentare una sedicenne. Si è svolta infatti martedì mattina nel carcere a Retino di San Benedetto davanti al GIPA Gianni Fruganti l'udienza di convalida dell'arresto dell'uomo accusato di violenza sessuale e lesioni aggravate. Il ganese difeso dall'avvocato Giuseppe Renzetti è rimasto in silenzio di fronte al GIPA avvalendosi della facoltà di non rispondere. La misura cautelare adottata resta la custodia cautelare in carcere. Il 35enne ganese lo scorso venerdì sera si sarebbe avvicinato ai due giovani con la scusa di una sigaretta per poi colpirli con calci e pugni. L'uomo avrebbe poi tentato di violentare la ragazza e minacciato con un coltello un suo coetaneo. L'episodio è avvenuto proprio sotto la fortezza Medicea. I due giovani fortunatamente sono riusciti a reagire e a fuggire, a dare l'allarme ai due passanti in auto che hanno chiamato il 112. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri l'uomo sarebbe responsabile di almeno altri due episodi simili, sempre con giovani ragazzi come vittime. L'uomo in carcere dallo scorso sabato è un richiedente asilo, ospite di una struttura della Caritas.